Fino al 30 giugno, alla Torre del Castello dei Vescovi di Luni di Castelnuovo di Magra, la mostra Pepi Merisio, il gioco, su un progetto di Raffaella Ferrari a cura di Elisabetta Sacconi. L'esposizione si inserisce nel ricco calendario di mostre per il 2019 organizzate dal comune di Castelnuovo di Magra. In esposizione, circa 50 fotografie in bianco e nero e a colori di varie dimensioni che raccontano con delicatezza e poesia il tema del gioco. Gli scatti, che vanno dal 1950 al 1989, colgono la dimensione senza tempo dell'aspetto ludico nelle diverse situazioni della vita quotidiana. Pepi Merisio, considerato uno dei principali fotografi italiani, è nato a Caravaggio, in provincia di Bergamo, nel 1931. Progressivamente diventa protagonista del mondo amatoriale degli anni 50, ottiene numerosi e prestigiosi riconoscimenti in Italia e all'estero. Già apprezzato dalla metà degli anni 50 per le sue collaborazioni con il Touring Club italiano e le riviste Camera, Realité, Foto, Maxima, Pirelli, Look, solo per citarne alcune. Intorno ai primi anni 60 inizia la collaborazione con Epoca, allora la più importante rivista per immagini italiana. Da allora la sua carriera è in continua ascesa, ottenendo prestigiosi riconoscimenti in Italia e all'estero.